Daniele Iacoponi, Isa, Fruizzanz, questa sera con me, a questo ricevimento Info Spettacoli al Sagredo. Buonasera Daniele. Buonasera, ringrazio Info Spettacoli per l'invito, come sempre. Siamo onorati di essere dentro le vostre riviste. Abbiamo voluto sponsorizzarvi con questo nuovo punto vendita, Fruizzanz, in forte le marmi, quindi proprio per confermare che la nostra tecnologia, il nostro sistema è un investimento per il futuro per migliorare la vita dell'ambiente esterno, quindi nel vivere l'esterno. Complimenti veramente per il nuovo showroom perché è bellissimo, dopo lo faremo vedere. Parliamo anche un po' dell'azienda di Fruizzanz. L'azienda è un'azienda giovane che ha una decina di anni di esperienza, sta crescendo molto grazie alle installazioni, alle evoluzioni tecnologiche, alle conferme che abbiamo dalle decine di migliaia di clienti soddisfatti in tutto il territorio italiano, nonché ambienti ricettivi, hotel, ristoranti, anche dei migliori, a 5 stelle, quindi ovunque luogo esterno si possa trattare, possiamo tranquillamente anche in base alle superfici e raggiungendo ottimi risultati veramente, quindi è concreta la cosa, non si vende più fumo ormai, è una cosa veramente soddisfacente. E ecco, auguriamo tutti che possano usufruire di questa tecnologia perché veramente possono vivere il giardino tranquillamente in estate, senza insetti e altri insetti, insomma, fastidiosi. E Fruizzanz funziona, ve lo assicuro. Allora io vi auguro una buona serata, Info Zettacoli, c'è il party, buona serata, salutiamo anche Isa, ciao Isa, buona serata. Grazie, altrettanto.